Un aspetto importante è che la gente mangia di più di quanto dovrebbe mangiare. Tra un pasto e quello successivo ci dovrebbe essere un intervallo di otto ore. Qualsiasi problema di salute tu abbia, si ridurrebbe almeno del 50% in sei settimane. Namaskaram Sadhguru. Fasting on auspicious days has existed in India since time immemorial, ma molti indians credo che è un scientific e illogical. Until il lavoro di autophagia che è stato fatto durante il fastidio, ha avuto il Nobel Prize. Anche io ho iniziato fare l'intermittent fastidio questo anno. Quindi, perché sono i benefici di antiche pratiche, sono stati legati orthodoxi e immediatamente implementati, quando c'è una versione approvata? È perché non hai il colore della pelle giusto. Ne sto parlando da 40 anni, va bene? E ho visto centinaia di migliaia di persone guarire e stare bene, semplicemente evitando di continuare a fare il pieno quando il serbatoio trabocca. Al centro yoga, tutti mangiano alle 10 del mattino e alle 7 di sera. Le nostre vite sono molto attive fisicamente. Non ci sono automobili dentro l'ashram. È un posto grande, tutti vanno a piedi o in bici. Anche solo per andare a mangiare c'è un chilometro. Se vuoi andare al tuo posto di lavoro, c'è mezzo chilometro, un chilometro. Le persone sono costantemente attive fisicamente. Perciò, verso le 3.30-4 del pomeriggio, tutti sono molto affamati, estremamente affamati. Ma impariamo a conviverci, perché la fame... Lo stomaco vuoto e la fame sono due cose diverse. Avere fame significa che il livello di energia inizia a calare, ma lo stomaco vuoto è una cosa positiva. Nella scienza yogica, oggi anche la scienza moderna si sta allineando, ma a quello che noi sappiamo per nostra esperienza, voi spendete miliardi di dollari per arrivarci, perché la ricerca è tutta questione di quanti milioni di dollari. E' così. Il corpo e il cervello lavorano al meglio solo quando lo stomaco è vuoto. Quindi facciamo sempre in modo di mangiare in maniera tale, in quantità tale, che lo stomaco sia sempre vuoto dopo due, due ore e mezzo al massimo, in modo da andare a letto affamati, sempre. La gente pensa di non riuscire a dormire, ma si può dormire. In media, per 25 anni, ho dormito solo dalle due ore e mezzo alle tre ore. Ultimamente sto diventando un po' pigro e dormo circa dalle tre ore e mezzo alle quattro ore e mezzo, nonostante la quantità di viaggi che faccio. Quando dico quantità di viaggi, se vi dicessi la mole dei miei viaggi dei prossimi giorni, caschereste dalla sedia. Sì? Devo dirvelo? No, non è necessario. Perché nei prossimi dieci giorni sarò in cinque paesi diversi, facendo non so quanti eventi, eventi di ogni tipo. Quindi si è in grado di mantenere questo ritmo semplicemente perché non si mangia troppo. È molto importante. Tutti fanno due pasti al giorno. Io generalmente solo uno. Alle 4 e 35 del pomeriggio, perché non mi piace sedermi davanti al piatto e preoccuparmi di quanto mangiare. Mi piace mangiare bene. Quindi mangio alle 4 e 35 del pomeriggio e il prossimo pasto è il giorno dopo. Vi sembra che io stia bene? Allora? Non sembro uno dei vostri pazienti, vero? Non verrò da voi. Perché ogni correzione e purificazione che deve avvenire nel corpo, lo stomaco deve essere vuoto. È molto, molto importante. Altrimenti non avverrà la purificazione a livello cellulare. Tu accumuli cose e poi hai problemi di ogni genere. La prima cosa è l'inerzia del corpo. Inerzia significa... Ci sono diversi gradi di inerzia. Se non te ne rendi conto, la quantità di sonno che hai è inerzia. Tutti voi siete arrivati qui per vivere o... Per vivere, giusto? Non qui. Qui intendo dire in questa vita. Volete vivere o... Il proposito della vita è di vivere. Non è così. Ma siccome avete parlato di dottori americani, anche tutto questo è stato preso da qui. Tutti i dottori americani dicono devi dormire almeno dalle 7 alle 8 ore. Ciò significa che devi dormire per un terzo della tua vita. Altre 2, 3, 4 ore se ne vanno per lavarsi, per il bagno, mangiare, questo, questo, quello. Quindi letteralmente il 50% della tua vita è solo manutenzione. Supponiamo che tu abbia un veicolo, hai una moto o una macchina. Se deve andare dal meccanico un giorno al mese, va bene tenerla. Se va dal meccanico 15 giorni al mese, è una seccatura. Non è così. La maggior parte delle persone ha reso il proprio organismo una seccatura perché il loro stesso corpo è un grande impedimento nella loro vita. Qualsiasi cosa vogliono fare, il corpo non glielo permette. Un aspetto importante è che le persone mangiano molto di più di quello che dovrebbero mangiare. Solo perché gli è stato detto devi mangiare di più altrimenti ti indebolirai. No, c'è un modo per mantenere il proprio corpo. Un carburante. Oggi tutti cercano di andare verso un'auto o una moto a basso consumo di carburante. Cosa significa questo? Se la macchina funziona senza intoppi, consumerà meno carburante, giusto? Quindi, se ti siedi qui e sei molto a tuo agio, ora consumerà meno carburante. Sei sempre così, allora consumerà più carburante, ti farà venire voglia di mangiare. Da questo deriva la compulsività. Quindi, questo nuovo nome, mangiare a intermittenza, dovresti vedere le persone che vengono ai nostri programmi negli Stati Uniti. I nostri programmi durano 10 ore, 12 ore, quindi a loro vengono con dei biscotti o qualcos'altro. Dicono, soffro di cali di zuccheri, devo mangiare. Io gli dico, sii semplicemente qui, non morirai, me ne assicuro io, perché non voglio che nessuno muoia tra le mie mani, ok? Me ne assicuro io. Il primo giorno, no, no, devo mangiare. Al terzo giorno hanno smesso con tutto questo. 12 ore senza cibo, seduti lì, stanno benissimo. Vedi? Sì. La salute non è qualcosa che si può creare da fuori. La salute è qualcosa che devi creare da dentro. Da fuori, quando qualcosa va storto, puoi cercare aiuto. Ma se hai continuamente qualcosa che non va, cosa significa? Che sei una macchina difettosa. Sì, c'è sempre qualcosa che non va. Perché? Non è così che è stato progettato questo. Questo è progettato per la salute. Ogni cellula del tuo corpo è progettata per creare salute. Non è vero? Tutte stanno lavorando sodo per creare salute, tranne te. Quindi, un minimo di otto ore di intervallo è ciò che si consiglia nello yoga. Tra un pasto e quello successivo, ci dovrebbe essere un intervallo di otto ore. Se fai così, vedrai che metà dei tuoi problemi di salute, qualsiasi cosa tu abbia, almeno il 50% sparirà nel giro di sei settimane. Se hai una piccola pratica yoga, qualcosa di meditativo dentro te, allora vedrai che il 90% dei tuoi problemi se ne andrà. Se il 10% persiste ancora, possiamo curarlo. Ora è diventato così. Il sistema sanitario, specialmente dove ci sono pesanti politiche sulle assicurazioni, le persone mangiano e bevono qualsiasi schifezza. Poi vanno dal dottore e dicono rimettimi a posto. Non è così che funziona. Non è così che funziona.